Sta succedendo qualcosa di incredibile C'è un deadclaw che è inseguito da un Bahamut E stanno combattendo Due deadclaw Tre deadclaw E ora mi sa che uno sta venendo da me Dance anche tu porca puttana E' il momento di provare la nostra nuova arma Chi dovrei uccidere con un colpo solo? Credo il Bahamut Ecco fatto Aia Madonna mi ha tagliato in due Dove sono gli altri deadclaw? Beh è stato un bel esperimento no? Bene Sono pronta Ora siamo pronti e carichi Possiamo andare No La verità è che A tutto ciò ancora non sono pronto Forse C'è un'ultima cosa che devo fare Prima Sì Devo farla adesso che ancora posso Dance Tu hai perso persone A cui volevi bene Giusto? Beh anche io Sto per perdere una persona A cui credo ancora di volere bene Ti chiedo di aspettarmi ancora un attimo Devo tornare da lui E parlargli almeno un'ultima volta Sono pur sempre sua madre Andrò lì per un'ultima volta E dovrò riuscire a schiarirmi la mente Prima di concludere tutto questo Forza Verso l'istituto Rieccoci Per un'ultima volta Forse Sono una madre terribile Ma sono pur sempre umana Io Ancora non sono sicura Che veramente tu sia mio figlio o no Per questo ti sto Dando il beneficio del dubbio E un ultimo addio Concludiamo questa riunione del direttorato Prima di continuare a parlare È Piuttosto importante D'accordo Bene Ci siamo tutti Possiamo cominciare Eccoci Chiedo scusa ma Posso conoscere il perché della sua presenza? Arriveremo anche a questo Ma prima ci sono altri argomenti Che richiedono la nostra attenzione I disordini nel Commonwealth Sono in costante aumento Come sappiamo tutti Il suo rapporto? Tutte le strutture dell'istituto Permangono assolutamente sicure Con una sola eccezione significativa A parte questo Internamente la sicurezza è perfetta Come sempre Il dottoraio Ha monitorato la situazione in superficie Sì Le vedete Non segnalano minacce particolari Oltre a quelle precedentemente identificate Stiamo ancora monitorando Le intense attività Attorno a Fort Independence Ma non ci sono segnali che siano fonte di preoccupazione immediata L'aeroporto internazionale di Boston rimane occupato E in diversi altri punti del Commonwealth È segnalata la presenza della confraternita Le informazioni indicano Meglio che non sappiano che noi siamo coinvolti allora E anzi tendono a diventare più ambiziosi Gli agenti del reparto URS controllano tutte le situazioni note Molto bene, grazie È chiaro che la sicurezza deve essere la nostra preoccupazione principale A questo proposito A che punto è la fase 3? Chiedo scusa Ma Siamo sicuri che questo sia Beh Il momento giusto per discutere della cosa E intendo dire Considerati No, non fare caso a me Tranquillo Ah sì, vero Hai sentito parlare della fase 3? No È la prima volta Non mi sembra Va bene Non mi aspettavo una risposta diversa Si tratta di un progetto segreto fin del suo concepimento Come avrai avuto occasione di vedere in superficie L'energia è un bene estremamente prezioso Non guande materiali Cosa che va oltre l'astratto concetto di potere È un bene tangibile E grazie all'energia Che le luci rimangono accese Con ogni nuova scoperta dell'istituto Il nostro fabbisogno energetico aumenta Ah, chissà perché non mi sorprende Nel corso degli anni abbiamo compiuto molti sacrifici E raggiunto molti compromessi Per non arrestare il progresso Tipo rapire le persone? Che genere di compromessi A volte siamo stati costretti a ricavare energia Da installazioni situate in superficie Mettendo rischio personale e attrezzate Oh no Il personale E le persone sopra? Molto semplicemente È l'attivazione di un reattore nucleare In grado di fornire all'istituto Tutta l'energia di cui ha bisogno Ora E per sempre Beh, sicuramente almeno non rubereste più l'energia sopra Ma anche la nostra prosperità E se succedesse una catastrofe? Energia nucleare? Non ci vorrà molto prima che accada una catastrofe Non sotto il nostro controllo Questa è la risposta Questa è la risposta Te lo assicuro Questo è il futuro Il reattore è quasi pronto Ma gli ultimi test hanno evidenziato Che ci sono ancora dei particolari da sistemare E così arriviamo alla fase 3 E a come tu potrai essere d'aiuto Io Vuoi che diventi la tua assassina? Beh, ora non è più possibile Anche se non mi piace molto l'idea di esporre a gravi rischi una persona a cui tengo Ha già dimostrato di sapersela cavare Sì, ma... Questa decisione non è oggetto di discussione Ora c'è un altro argomento di cui dobbiamo parlare Non so se questo sia il momento adatto Dottor Oldren, lo è, per favore Come di sicuro molti di voi già sanno È ormai da tempo che mi sottopongo alle cure del dottor Volkert Mi spiace, ma per me è difficile I nostri sforzi non hanno avuto esito positivo Tutti i trattamenti sperimentali che abbiamo sentato Di cosa stai parlando, Sean? Mi... Mi spiace dover annunciare che sto morendo Cosa hai detto? Scusami No! Calmatevi tutti Mi dispiace Non avrei voluto annunciarlo in questo modo Ma il tempo a disposizione sta per finire Stai morendo? Stai morendo Temo di sì Una forma di cancro particolarmente virulenta Credimi quando ti dico che abbiamo tentato tutto il possibile Ne siete sicuri? Parleremo più a fondo in seguito In questo momento è in gioco il futuro dell'istituto L'istituto non può sopravvivere senza una guida Il direttorato deve continuare a governarlo Ponendosi come obiettivo il miglior interesse comune Per questo intendo nominare mia madre Come mio successore No, 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 no Non puoi dire sul serio Ma scherzi? Come puoi giustificare una cosa del genere? Non fa parte di noi Non è neppure uno scienziato Sono più intelligente di quanto sembro E mi limiterò a dire una cosa L'istituto ha scienziati a sufficienza Ciò di cui ha bisogno è un leader Credo che mia madre abbia già dimostrato le sue capacità a tale riguardo Con questo la riunione si conclude Grazie a tutti Grazie al cazzo, scusami Quindi, quello che hai appena detto È la verità, Sean Sono felice che tu sia qui con me A condividere tutto questo Non ne avevo idea So che tutto questo è Beh, difficile da accettare Diventare capo di questo posto e tu che stai morendo Chiamala semplice la cosa C'ero di non aver commesso un errore Assegnandoti il comando Senza neppure parlartene prima Sarebbe stato Discreto dirmelo prima, forse Non so se sarò all'altezza del compito Sappi che io ho molta fiducia in te Sicuramente una parte del direttorato Come pure dell'intero istituto Avrà bisogno di essere rassicurata in merito alla tua nomina Ecco perché vorrei che ti occupassi di quest'ultima operazione La dottoressa Fillmore ti fornirà i particolari Ci attendono decisioni difficili Per tutti noi Ma in particolare per te Io però so che farei la cosa giusta Hai ragione Sean Spettano decisioni difficili per tutti noi ora Ma per me più di tutti Io non posso accettare questo posto Non posso accettare che Facciano del male anche per il bene Ma facciano del male delle persone La vita di mio figlio però Non è una cosa che voglio mettere in discussione Io non posso vivere in questo posto Non è ciò a cui sono stata abituata Né tanto meno ciò che desidero Ci sono delle persone là sopra E io voglio aiutarle Nel modo più pratico possibile È per questo Che voglio aiutare ancora una volta te Sean Voglio tentare il tutto per tutto Io ora Non ho più rimpianti Però ci deve essere qualcosa che possa fare Virgil deve avere qualche cura Qualche cosa Avrà pure lasciato qualcosa in questi terminali Qualcosa che mi possa aiutare Qualcosa Qualsiasi cosa Qualcosa che Mi permetta almeno Di salvagli la vita Permettegli almeno di scappare da questo posto Questo? Il VEF No Questo Oh no È il ceppo del VEF mutato dall'istituto Però Se funzionasse potrebbe salvargli almeno la vita Potrebbe essere una soluzione No ma Che cosa sto dicendo? Lo trasformerei in un super mutante Che vita di merda Gli aspetterebbe Là fuori Però Virgil ci ha combattuto Con questa vita Potrebbe essere una soluzione Ma vieni Potrebbe essere letale Effettivamente Ma potrebbe essere anche una soluzione Tieni il VEF Ok Però forse Qualche altra soluzione c'è Siete scienziati no? Avete studiato modi per creare la vita qua sotto E non sapete curare un cancro? Io però Ho degli amici molto importanti là fuori Le persone che voi state snobbando in realtà Potrebbero salvagli la vita Devo trovare un medico Tu 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 Potresti aiutarmi Vero? Mio figlio sta morendo Aiutalo Ti prego Sessanta anni Sono veramente tanti E Kellogg invece È rimasto in vita per tutto questo tempo Dannazione Sean Dottore Ci deve essere qualcosa Ho trovato questo siero Potrebbe aiutarci Lo so Lo so benissimo D'accordo Ho anche qualcos'altro Ho trovato una cura nel volto 81 Vado a prendegliela Dov'è? Dov'è quella cura? Eccola qui Non sarà molto però Ha salvato la vita di un bambino Magari potrebbe aiutare Curie Ho bisogno di Curie Lei potrebbe aiutarmi per davvero Curie Tu hai lavorato in questo posto per anni Saprai se c'è Qualche documento Su Sulla cura che hai fatto Ti serve qualcosa madame? Sì Che vieni con me Ci deve essere da qualche parte Un documento che parla di tutto questo No? Eccolo qui La ricerca medica del volto 81 Per sicurezza Prendiamo anche un'altra Grazie scienziati Riposate in pace Doc Rieccomi Dottore Rieccomi Ho dei documenti per lei Ho trovato anche questo siero al volto 81 Può fare qualcosa? Ho trovato questo Il serum In volto 81 Potrebbe aiutare? Lascimi vedere Hmm No no Questo non è quello che abbiamo bisogno Davvero? Ah cavolo Dannazione Sì ho trovato Questa ricerca Davvero? Può fare qualcosa? Porca miseria Quelli che ti ho dato prima Te li ho dati prima Dean Perfetto Va bene Ti prego Fai qualcosa Doctore Volkert I'd like a progress report Look I have good news And bad news Davvero? The good news Is that I have finally figured it all out I managed to create An experimental cancer treatment Out of that strange serum You found The bad news is that There's no way Sean would ever accept this treatment Ovviamente Va bene Non importa Dammi quel siero Don't worry I'll keep your secret Do it Fine You've convinced me But this is not something Sean can ever find out about Please keep in your mind The treatment isn't guaranteed to work Lo immagino Però è già qualcosa Non ti preoccupare Hai già fatto più di quello che dovevi Tranquillo Quello di cui abbiamo parlato Non uscirà da questa stanza Side effect sconosciuti eh Va bene Non importa Dobbiamo solo trovare l'occasione giusta Non dobbiamo neanche parlargliene ovviamente È vero Sarò una madre orribile Distruggerò questo posto Non ci sono dubbi Ma Farò sì che lui almeno Muoia senza quella malattia Come ho detto So di essere una madre terribile Curo mio figlio per poi ucciderlo io stessa Ma preferisco essere io A portargli via la vita Piuttosto che una malattia Ehi Che succede qua dentro? Questo è puro egoismo Ecco cos'è Che cosa Newton? Cosa sta succedendo? Il dottor Higgs e il dottor Locken Hanno deciso di protestare Contro la tua nomina Quale successore del padre Tranquillo Non c'è nulla di cui preoccuparsi Hanno preso il controllo dei sistemi di sicurezza Della divisione bioscienze E hanno bloccato i nostri rifornimenti di cibo Hanno richieste? Hanno fatto qualche richiesta? Non ancora Ma immagino che ti chiedano Di rescindere ogni tuo legame Con l'istituto Mi sembra Un'opzione effettivamente C'è un modo per comunicare con loro A dire il vero C'è Posso sbloccare il tunnel di manutenzione Che conduce alla sala osservazione Della divisione bioscienze Ottimo Dovresti riuscire a metterti in contatto Con Higgs e Locken Se non riesci a farli ragionare Puoi usare questo olonastro Per accedere alle funzioni di comando Dal terminale della sala osservazione Va bene Newton Questo dovrebbe fornirti alcune opzioni Però ti prego Come prima cosa Prova a parlare con loro Usa la violenza Solo come ultima risorsa Oh Fidati La violenza sarà la mia Ultima risorsa Eccoci Dammi solo un istante Vai tranquillo Newton Ecco fatto Sbloccato Bravo Calmi tutti Stai attaccando La tua Futura direttrice Questa È in subordinazione Lo sai? Lo sai che questa Ehi Quel braccio Quello stacco Lo sai che questa È in subordinazione Bella e buona Non ci si può proprio fidare Di queste stupide macchine Oh dannazione Parlo esattamente come loro Bene Pure le torrette Abbiamo armato Vedo Qua non vogliono Che io mi ritiri Vogliono proprio morta Beccati questo Porca puttana Non sarò Kellogg Ma sono capace Anch'io di uccidervi Ecco appunto Stupide torrette Allora Testine di cazzo Avete qualcosa Da ridire? Hai sentito qualcosa Hai superato le guardie Notevole Eh cosa credi? Ti avviso Se sei qui per farci cambiare idea Stai perdendo il tuo tempo Possiamo parlarne almeno? Possiamo parlare Di questa situazione Il padre Ha deciso Di non parlare Con il direttorato Prima di scegliere Il suo successore Io ho deciso Di seguire il suo esempio Oh egoismo Non credi di essere un po' egoista? Non credete di essere un po' egoisti? Assolutamente no Le nostre azioni hanno come finalità La protezione dell'istituto Sicuro di non voler cambiare idea? Ultima possibilità dottore Sicuro di non voler cambiare idea? Questa vicenda non riguarda soltanto te e me Qui si tratta di proteggere decenni di ricerche e progresso La risposta è no Non ci arrenderemo Chi c'è nella sala controllo? L'erede del padre a quanto pare Ha superato le tue impenetrabili difese Ma se ha raggiunto quella postazione? Calmati Sapevamo quali rischi correvamo Ma abbiamo ancora noi il controllo Ne sei sicuro? Accediamo i sistemi di bioscienze Disattiviamo le torrette E sblocchiamo la porta I campioni magari lasciamoli da parte per ora La porta è aperta Sintetici protocollo difensivo 1 Tu stai buono E anche tu Datti una calmata Disattivazione in corso E tu non ti muovere Sono qui per parlare Va bene? È finita dottor X Cosa hai intenzione di fare ora? Ucciderci e prendere la chiave Prego fallo pure Dimostra che avevo ragione È questo che vuoi? Diventare un martire? È questo che vuoi? Diventare un martire? Io voglio solo il bene dell'istituto È quello che ho sempre desiderato Ora basta Sei uscito di senno Lawrence? Lo farò io Aprirò la porta Bravo Max Max no! È finita Lawrence E se non lo capisci Sei un pazzo Ora A meno che tu non voglia spararmi Fatti da parte Mentre io pongo fine a tutto questo Vai pure Le generazioni future Si ricorderanno Di questa decisione Max Stanne certo Avrei potuto farvi ammazzare Dai vostri stessi gorilla Eppure non l'ho fatto Questo dimostra Che sono una persona pacifica Ora Apri quella cavolo di porta Consiglio di restare confinati Nei nostri alloggi In attesa che decidano Il nostro destino Perfetto Dobbiamo almeno affrontare Con dignità Le conseguenze Delle nostre azioni Abbiamo scelta Sì La scelta di starvene buoni Ecco fatto Situazione risolta Ammetto che temevo il peggio Ma evidentemente Non avevo compreso Quanto tu fossi in gamba Eh lo so Claudio Moneta Abitudine Non preoccuparti Ci sono abituata Chiedo scusa Non dubiterò più di te C'è un'altra cosa Da discutere Di cosa Newton Non ti preoccupare Non dagli nessuna punizione Non c'è bisogno Di alcuna punizione Credo che abbiano Imparato la lezione La tua compassione E la tua comprensione Ti fanno onore Riprenderò Quell'olonastro Prendilo pure Voglio anche offrirti qualcosa Come segno Della mia personale Dammi una birra E siamo a posto Newton So che il tuo lavoro Spesso ti conduce in superficie Dove i rifornimenti Scarseggiano Nah sono piena Questi oggetti per te Penso che li troverai utili Io direi di no Però Ti ringrazio lo stesso Perché punirli D'altronde hanno ragione Vogliono solo il bene Di questo posto Penso che nessuno di loro Sappia le mie vere intenzioni Come giudicarli D'altronde Questo sarebbe stato Solo il primo Di tante rivolte La mia mente ormai è chiara So quello che devo fare Rieccoci qua Il tempo non è uno dei migliori Ovviamente Rispecchia molto Il mio umore Effettivamente Curie Grazie di essere venuta con me Dance Riprendiamo la missione Prendiamo la nostra armatura E andiamo Andiamo A finire Prime Il tempo non è uno dei migliori